se ci tenete ai vostri soldi non entrate in questa casa ciao a tutti e ben ritornati in un nuovo video di palazzite a cattoni in questo video parleremo di red redemption c'è una missione secondaria dove dice sì che se entriamo in questa casa perderemo tutti i nostri soldi qui sulla mappa vi faccio vedere la posizione esatta in cui si trova l'evento è un evento casuale l'evento parte appena ci avvicineremo vicino alla casa come molti di noi sappiamo ci sono missioni secondarie ad esempio come questa che sono delle vere e proprie trappole per rapinarci dei soldi qui me sono accorto appena lei chiedeva l'aiuto mi sono avvicinato si è alzata ho sparato prima io che lei purtroppo il gioco è fatto così ci sono tantissime trappole per la mappa quindi vi consiglio di stare sempre attenti con le missioni secondarie quella che vi porto oggi è bellissima ascoltate con la squadra di non guarda no non Non mi ha detto che abbiamo chiesto qui? Mi sono riusciti bene. Oh, ora... Tu sei che sei perfetto, princess. Ah, non c'è un chiesto, miss. C'è solo passato. Oh, nascita! Come in, resta un po' a l'ora. Abbiamo la città di la stovola e una botella del buono che ci siamo salvati. È deciso, allora. E' un po' fresco. Come in, resta un po' a l'ora. Mi piace la offer, ma lo meglio essere in mezzo. Oh, vieni ora. Come ti prendi una città di freddo e buona company? Vieni a cercare la botella. Fino a qui, niente di strano. Sembrano persone gentili che ci vogliono aiutare. All'entrata c'è questo quadro che subito mi dà nell'occhio. Mi dice di andare su, di andare a chiamare la... In questo caso si potrebbe capire che sarebbe sua moglie. Da poi vi spiegherò chi è. Tu stai freddo, non ti? È bene, guardare non è un crimine. Tu andi andate a se a la sede. Io ne metterà in un momento. Sì, ha detto che mi chiede a te, questo è tutto. Oh, non hai bisogno di fare alcune scuole, no siree. La casa non sembra in ottime condizioni, abbastanza direi sporca. Qui girando sopra vedo nell'angolo un cavallino, un giocattolo, una branda metà degli scacchi, dei giochi praticamente. E dei vecchi matarazzi sembrano. La casa ha già di un'area, ha già di per sé un'area molto molto sinistra. Poi mi rego giù e vado vicino all'uomo. Sì, questo è quello che voglio sentire. Ora prendere una scuola, partner. Oh, hey! Hey! Questo è proprio perfetto. Uno dei momenti che tu piacerebbe poter durare sempre. Beh, come ho detto, non posso rimanere per sempre. Guarda noi, come un paio di vecchi amici. Sì, è un po' di vita, ma un po' di meri. Sì, qui siamo, tutti i fixi. Ho spero che hai paio qui lasciano room in i nostri fatti. Sì, che smells delicioso. The food don't smell too bad neither Oh stop it you How do you like it? It's good Different That means it's so tender You know what this place Used to be a pig farm When we was kids Before we lost our ma and pa Horrible business Horrible But we still got each other Ain't that right honey pie And we still know how to have the hog killing time There There That's for you Where are my manners? Drinks Yeah I could definitely use a drink That stuff will put hair on your chest Oh I doubt he needs that Let's loosen you up some more La situazione è in quanto molto strana e imbarazzante Qui potremmo ancora scappare Siccome che vi voglio portare il video Premo triangolo per accettare un altro drink Guardate i soldi Oh un milione Oh un milione E così diremo addio a tutti i nostri soldini Ci risveglieremo senza un dollaro In una fossa comune Dove ci sono altri cadaveri Tra cui anche qualche animaluccio Il gioco in sé ci dice di ritornare indietro E fare qualcosa per recuperare i nostri soldi Premiamo Tremendo il tasto opzioni della mappa Noteremo che non siamo spawnati tanto lontani dalla casa A questo punto non ci resta che fare di ritornare lì E cercare di recuperare i nostri soldi Qui siamo ritornati indietro Entro di più potenza in casa Però ho sbagliato Sono entrato in un'altra stanza Ragazzi non volevo tagliare questa parte perché era troppo bella Sono entrato tutto spavaldo e ho sbagliato Entriamo in casa La signorina Signorina mi dai soldini Mi dai soldini Mi dai soldini Beh l'ho sparata prima di ricoprare i soldi Sento che scende anche l'uomo Logicamente prima che spara lui sparo io E poi gli domando dopo che è morto dove sono i soldi Se notate bene dopo che l'abbiamo uccisi Nella mappa vediamo la famosa ombra gialla qui Che praticamente è un indizio che bisogna cercare Ispezionare la casa Vado innanzitutto a ispezionare i cadaveri Purtroppo i miei soldi non ci sono Poi provo ad andare su E a ispezionare il resto della casa Ispezionando la casa Apro un armadio Che te ci vedo Guardate E' un bel teschio Di chi sia questo teschio Non ne ho idea Quindi mi accingo a continuare a perlustrare Ispezionare la casa Un'altra cosa Che Mi da Nell'occhio Mi porta a capire qualcosa E' una foto che troverò nella stanza da letto E' una foto piccola Che Riguarda una famiglia E da lì Ho vedendo la foto Ho visto mamma papà Figlio e figlia E lì Mi è venuto da pensare Che Le due persone Che Abbiamo appena Ucciso Siano in realtà Fratello e sorella E non Moglie e marito Come si potrebbe pensare Dall'inizio Mentre lei ci prova Con noi Anche loro Nel gameplay Ci dicono Che Dalla morte dei genitori Hanno avuto brutto tempo Brutti tempo Hanno passato Dei brutti tempi Scusate Quindi Andando Più in là Ispezionando la casa Ho notato Un'altra cosa strana Andando qui C'è un quadro Qui guardavo un po' Dappertutto Vedere se pensavo qualcosa Vedendo questo quadro Ho visto che Il quadro È stato rigato Tradeggiato Magari loro Non avevano Un rapporto Così Buono Con i propri genitori O perché Li hanno abbandonati presto Ha un po' di rancore Verso di loro Non ho idea Comunque Ritornando Alla casa Io vado su quel quadro Che ho visto all'inizio Mi avvicino Vicino E mi dice Ispeziona Sono andato A ispezionarlo Mi ha spostato il quadro C'era Un mobiletto nascosto In questo mobiletto Ci ritroviamo I nostri soldi Signore e signori Adesso Non so Chi ha già fatto Questa missione Se i soldi Si trovano ancora lì Comunque Chi l'ha fatta E ha perso i suoi soldi Può vedere Se può recuperarli Andando in quel Spostando quel quadro Vedere se ci sono i soldi Ragazzi Per questo video è tutto Un abbraccione a tutti E ci sentiamo Nel prossimo Video E fate bravi Alla prossima